La misericordia è l'amore che accoglie l'altro nella sua debolezza, nelle sue fragilità e nei suoi peccati. È l'amore immeritato nel quale Dio ti dice, ti voglio bene lo stesso, credo in te, va in pace a non peccare più. Questo riapre una via di fraternità e comunione al di là delle divisioni create dai nostri peccati, dalle spaccature che si aprono quando le nostre opposte chiusure si scontrano e non siamo più capaci di perdonarci. Queste le parole del Vescovo Armando, mercoledì 10 febbraio in cattedrale, in occasione del ritiro del clero di Quaresima con il rito dell'imposizione delle ceneri. È questa misericordia di Dio, ha proseguito il Vescovo, che dobbiamo far percepire alle persone che si sentono escluse dalla Chiesa. È questa apertura che non giudica ma accoglie sempre che noi dobbiamo far percepire alle persone che non credono in Dio e a volte hanno l'impressione che i cristiani li guardino un po' dall'alto in basso, con tono di giudizio o di compatimento. L'amore crocifisso è per tutti, non ci sono posizioni privilegiate perché nessuno può vantarsi di essersi meritato quell'amore. Tutti siamo peccatori, la sua misericordia ci raggiunge tutti come un dono che ci precede sempre. Il Vescovo ha poi messo in evidenza come di questa misericordia abbiamo bisogno per oltrepassare le divisioni che si aprono anche dentro le nostre comunità, quando fissiamo lo sguardo ciascuno sul peccato dell'altro. Allora ci blocchiamo nella vana pretesa che sia l'altro a cambiare. Torniamo invece insieme a guardare il crucifisso, che per primo si è mosso verso di noi, che non ci chiede nulla se non di lasciarci voler bene, di accogliere il suo amore. Solo questo scioglie le nostre durezze, le nostre pretese di giustizia verso gli altri, far rinascere in noi la riconoscenza per la misericordia che sempre Dio ha verso di noi. E la Chiesa, concluso il Vescovo, esiste per ricordare di generazione in generazione la presenza anche dentro le più laceranti devastazioni dell'umano, anche dentro al deserto di senso in cui dimoriamo, della misericordia di Dio che perdona. Non esiste tenebra nella vita e nel cuore dell'uomo che quella croce non possa rischiarare.